Pazientemente attendo. In lontananza vedo una ragazza che disegna su un quaderno. Sorrido e mi avvicino. È bellissima. Le chiedo cosa fa. Mi dice che studia arte e che sta facendo qualche schizzo. Alberi, prati, animali. Sta ritraendo un corvo. Le sorrido. Ora o mai più. Prendo coraggio. Le dico che ho visto uno stormo intero in mezzo a quella radura. Senza indugi mi segue. Devo esserle simpatico. Siamo in mezzo agli alberi. Le indico le fronde che ci fanno ombra. È un ottimo pretesto. Lei mi dà le spalle. La guardo dal basso all'alto. È davvero bellissima. Le taglio la gola. Non un rumore. Nessun testimone. Come prima volta non c'è male. Nascondo il suo corpo fra i cespugli. Mi allontano pensando a quanto impiegheranno per trovarla.